Presidente Amato, commentiamo una sconfitta che alla fine si rivela anche pesante per il Real Forio sul campo della Mariglianese, però una gara nella quale ci sono tanti rimpianti, nel primo tempo il Forio se avesse fatto due gol non avrebbe rubato niente, che gara ha visto? Ho visto una gara dove nel primo tempo comunque non c'era partita, abbiamo giocato quasi 45 minuti da metà campo loro, abbiamo avuto almeno due o tre palle nitide davanti alla porta per segnare, purtroppo è un anno che va così, ma ovviamente questi non devono essere attenuanti perché comunque alla fine il risultato è la partita che conta e il risultato non è il risultato che mi fa piacere, non è il risultato che comunque meritiamo, purtroppo come giustamente dicevi è un primo tempo giocato bene, è un primo tempo giocato anche con la giusta cattiveria nonostante le condizioni medio proibitive, però ripeto, l'abbiamo sempre detto, quando hai due o tre azioni nitide davanti alla porta una devi buttarla dentro e se non siamo così cattivi da poterlo fare, poi alla fine questi sono i risultati che tenesci da Torniaia sull'isola praticamente con tre gol senza un punto e alla fine la gente di questo si ricorda perché ovviamente le persone vedono il risultato come giustamente sia, vedono che comunque non portiamo punti a casa e si dimenticano anche di una buona prestazione del primo tempo ed è giusto che sia così, ma io sono veramente estremamente amareggiato per questa cosa perché ripeto, mi dispiace perché dopo un primo tempo così non va a me ad aspettarti che comunque prendi, alla fine sono tre tiri praticamente in area di rigore e prendi tre gol non va bene così non si va da nessuna parte, quindi questa è una cosa con cui dovremmo riflettere ne parlerò con lo staff, ne parlerò con il direttore, con tutta la società per capire un attimino come risolvere questa cosa perché così non va bene, non esiste, non esiste L'impressione è che sia nell'arco della gara, poi naturalmente anche nell'arco delle partite, insomma manca un po' la continuità al Real Forio, secondo lei su cosa bisogna lavorare per arrivare a trovarla? La continuità purtroppo si trova nella preparazione fisica e nella preparazione mentale quindi quando uno di questi due elementi viene meno purtroppo questa è la situazione il vero è che comunque abbiamo una serie di infortunati che comunque ci stiamo trascinando quindi quando abbiamo trovato la quadra della squadra poi abbiamo avuto degli infortunati, abbiamo avuto degli squalificati e quindi ci portiamo avanti un attimino questa situazione che è di non, diciamo così, tranquillità mentale quindi onestamente, veramente oggi sono veramente amareggiato perché è stata una brutta sconfitta una sconfitta che non ti aspetti, dopo un primo tempo così ero convinto che potessimo fare qualcosa di veramente importante qui a Barra ma invece non va bene, non va bene così, non va bene assolutamente è brutto a dirsi però avrei preferito praticamente giocare anche un primo tempo brutto in maniera tale che tu te ne tornavi a casa con la sebolezza che avevi fatto la partita non all'altezza e te ne tornavi con la sconfitta invece così è brutto perché sai che hai delle situazioni, hai una squadra importante che può fare qualcosa di bello e poi alla fine non riusciamo a concretizzarlo, questa cosa non va bene